Trova Ferrero che si fionda a calentro e fallo della difesa di Capodornano. Ora Giancarlo Ferrero liberi, il primo lo realizza, vediamo se realizza anche il secondo e la partita sarà in perfetta parità. Parità! Tre punti di media Futana mentre il gruppo alla quale delle mani in questo caso andando poi a spiacciare, trovando anche il giuratore extra riga che poi però si ingambera sull'errore. Ma è fondamentale far canestro dal perimetro in questo momento. Ancora uno su due per Varese, 9 sui 45 passivo su una situazione da pick and roll. Ferrero addirittura sbattendo contro Kangur che ha corretto forse di dare il gioco. Kangur per Ferrero da sotto per la giacca. Ferrero che ancora per la giacca! Per la giacca, 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 per la giacca e per la giacca. Anche adesso in partita, scusate ma ancora Giancarlo! Vai così! Vai così! Quanto meno e toglierlo dal campo, visto che ha preso un quarto faglio e diciamo ora adesso lo vediamo da fare.